Spacca la netta, Ken! Spacca un po' l'idea! Mamma mia! Ti libera benissimo il Ken! Porta l'entrata della rive, al sesto minuto! F***a, con tutta la forza del mondo! Mannaggia Ken, oh! Mi sa che è sciro, non è che è Ken! Mi sa che è sciro, non va giù, non è che è morto! Un missile! E' andato a trovare un difensore della Fiorentina, quel pallone lì! Ma che lavoro! Ma che lavoro! Qui resiste, le bombe! Qui scarica un missile che non la vedeva, faceva i 150, questo è un replay! Sembra un tiro diretto, mannazzale!